Io cercherò di non essere molto prolissa perché poi ci saranno degli interventi più specifici su due progetti che ha citato, dico due perché in realtà Incipi e Tanello Ottico sono lo stesso progetto e emerge l'altro progetto. Il ruolo dell'università dopo il sisma è stato un ruolo certamente protagonista anche che tendeva a favorire l'idea di una ricostruzione che fosse allo stato dell'arte anche oltre quello delle tecnologie al momento ma anche perché l'Aquila è stata una città fortemente universitaria e quindi per l'università in qualche modo lo scotto di dover esistere in un territorio che comunque sarebbe stato attraversato da processi di ricostruzione di durata decennale, quindi siamo ai primi dieci anni e non abbiamo ancora finito, ci sembrava chiaro che questi elementi di contesto territoriale dovessero diventare un elemento anche a favore del nostro esistere come ente di ricerca e di formazione e quindi l'idea di avere la città a ricostruzione come un potenziale laboratorio di sperimentazione di tecnologie allo stato dell'arte e anche di sperimentazione nel campo di tecnologie avanzate era un'idea che c'era sembrata in qualche modo un po' visionaria ma che poi oggi la raccontiamo e la raccontiamo come una cosa che invece siamo riusciti a fare grazie anche forse al fatto che quando succedono disastri di questo genere è molto difficile il giorno dopo avere la visione di che cosa si vorrà essere come città e quindi dopo qualche anno la città si è riconosciuta nell'idea di una declinazione alla sperimentazione, al guardare avanti in modo rigoroso, magari scientifico ma sapendo che si va per passi piccoli e si aggiusta la visione man mano, nessuno ha idea di che cosa sarà dopo dieci anni, dopo venti anni una città e piano piano questa attitudine un po' di metodo scientifico ha caratterizzato invece molte delle scelte che sono state fatte non tutte ovviamente, non è che si può ricostruire la città sapendo già quello che sarà ma nel processo, nella metodologia, nel modo di operare si è cercato di effettivamente avere questo rigore scientifico, l'aquila della conoscenza vuole essere questo un metodo, l'idea di sentirsi città in transizione che non arriva a un punto di completamento ma tende sempre a migliorare, a riconvertirsi, a darsi nuovi obiettivi i due progetti in questione sono legati, in che cosa sono legati? il primo progetto Inciput, lo vedrete, è un progetto di rete urbana di 11 km un anello di 11 km che attraversa la città vecchia e nuova attraversando i poli importanti che sono i poli della formazione e i poli della pubblica amministrazione e che si è proposta come infrastruttura di ricerca per ospitare la sperimentazione di fibre ottiche estremamente innovative e poi di che tipi di servizi si possano attuare servizi di valore aggiunto, servizi software, si possono attuare su questo tipo di infrastrutture tecnologiche avendo l'ambizione di poterlo sperimentare sul campo e sperimentandolo anche in termini di che tipo di valore aggiunto sulla qualità della vita del cittadino questi servizi possono avere e questo è il primo progetto, poi il professor Graziosi ne parlerà più diffusamente è chiaro che va di pari passo con la ricostruzione perché insomma costruire un'infrastruttura di questo genere non si fa se non si stanno ricostruendo le infrastrutture di una città e quindi l'altro progetto invece è il progetto Emerge, è un progetto nel quale si sperimenta ancora qualcosa che ha a che fare con la funzione se vogliamo di tecnologie innovative in una città perché saremo teatro di sperimentazione di un veicolo connesso in area urbana il progetto Emerge si pone l'obiettivo di equipaggiare dei veicoli di tipo ultimo milione quindi non auto, piccoli veicoli van sperimentare in tratto urbano le potenzialità che possono essere offerte dall'avere una connessione affidabile che utilizzi tecnologie di tipo satellitare, di posizionamento satellitare di nuovo non è a caso questo tipo di sperimentazione perché mette insieme le competenze sviluppate dall'Università dell'Aquila in consorzio con altre università e azienda un'azienda come l'Ansaldo nel consorzio Radiolabs un importante centro qualificato per le tecnologie satellitari che è Telespazio altre aziende che ruotano intorno allo spazio e l'esistenza di un polo automotive come quello di Sebel e FCA in Abruzzo e in Val di Sangro che naturalmente ha forti interessi a poter anche avere accesso a questo tipo di sperimentazione il professor Santucci ne parlerà più diffusamente però credo che questi due progetti diano un po' il segno di quello che è stato il nostro impegno all'Aquila e sul territorio più in generale è stato un tentativo riuscito di utilizzare le possibilità che avevamo di introdurre un'infrastruttura di ricerca importante nella città e contemporaneamente di fare questa cosa abusata sistema tra i grandi imprese imprese estremamente innovative e tecnologiche e competenze universitarie non necessariamente solo le nostre cito dicendo che questo progetto è stato anche in qualche modo l'elemento che ci ha consentito di fare un accordo quadro tra Università Comune dell'Aquila ed ESA per sviluppare soluzioni innovative che utilizzino anche tecnologia 5G che è l'altro elemento dove in qualche modo la ricostruzione dell'Aquila all'insegna dell'innovazione tecnologica ha permesso alla città dell'Aquila di essere una delle 5 città di sperimentazione 5G